Salve a tutti da Infinito! Come cambiare la propria immagine di profilo su WhatsApp? Per prima cosa apriamo il programma. Ora ci sono due modi per aprire il menu opzioni. Alcuni di voi dovrebbero vedere il tasto opzioni in alto a destra dello schermo. Di solito sono tre punti in verticale. Per coloro che non hanno questo tasto basta cliccare il tasto opzioni incorporato nel telefono, che si trova di solito nelle posizioni che vi faccio vedere a schermo. Una volta cliccato e aperto il menu opzioni, clicchiamo su impostazioni. Clicchiamo poi su profilo della prossima schermata. Dovremo ora vedere la nostra immagine di profilo corrente. Per cambiarla basta cliccare in basso a destra nell'immagine stessa. Selezionare poi gallerie se ci viene chiesto. Una volta trovata l'immagine che vogliamo mettere, basterà cliccarci sopra. WhatsApp ora ci chiederà di ritagliarla. La ritagliamo e la vedremo ora comparire al posto di quella vecchia. Se il video vi è stato utile mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima!